Che cos'è? E' un personaggio inventato Ispirato alla fantascienza Sì, il titolo Mad Max Quindi è puro Pusciamo fuori Sì, pusciamo, aspetta un secondo Eccoci, allora E gli stai insieme, stai insieme a loro Sì, praticamente abbiamo fatto questo gruppo di personaggi Che sembra tipo il Mad Max Cioè sono personaggi ispirati a una fantascienza Tipo futuro, post-apocalittico e cose così E come pare che c'è un microfono? Sì, più o meno Mistero